Nel mezzo del cammin della mia vita mi ritrovai un aggeggio tra le dita, qualunico apparecchio per parlare, qual solo mezzo per comunicare. Che senza tra le mani sto strumento trovassi l'uomo un preda allo sgomento, ma il peggio è che la tecnologia ha portato una nuova malattia. Non è proprio un epicondilite, i medici la chiamano selfite, poiché i troppi selfie sono la causa, il braccio che non conosce pausa, proteso verso l'alto e allungato perché il volto venga immortalato, è il dito che clicca di gran foga, il selfie ormai è come una droga. Bei tempi quando ero adolescente e ci si divertiva anche con niente, anche allor non avea il braccio posa, però il selfie era tutt'altra cosa, non che fosse esente da malattia, ci sono stati dei casi di miopia e soprattutto in età puberale anche sindromi del tunnel carpale. Ma di selfie ne bastavano ben pochi, due al giorno e si diventava fiocchi, un po' stanchi ma direi appagati, donni stresse e tensione svuotati. E io sono rimasto un po' all'antica, perciò bisogna che proprio ve lo dica, del selfie moderno non me ne frega, preferisco farmi una bella sega.